Buongiorno, sono Riccardo e oggi vi accompagnerò in questa visita virtuale all'interno della nostra scuola. Arrivati in via Dante, entriamo nell'ampio giardino che circonda l'edificio. La scuola è dotata di diversi ingressi. Saliamo le scale dell'ingresso principale e troviamo la stanza dei collaboratori, a Lampio Atro, che ci porta agli uffici della segreteria e della dirigente. Proseguendo nel lungo corridoio troviamo un ampio spazio centrale che utilizziamo spesso per le nostre attività con voi. Qui si affaccia un'aula del pieno terra. Siamo alle scale per visitare le aule del pieno superiore. Usciti dall'edificio passiamo al nostro utilissimo piccolo anfiteatro che utilizziamo per le nostre attività all'aperto, per recarci gli spazi dedicati allo sport. Abbiamo una bella palestra molto attrezzata e diversi campi poi valenti. Vi saluto lasciandomi in compagnia del nostro inno. Non ci fermiamo mai. Spero tanto di conoscervi presto. Ciao! 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 Grazie per la visione!